L'autorità di Gesù, Satana ha tentato di rovesciare Dio in cielo, ma ha perso. L'angelo Michele e i suoi angeli divini combatterono contro Satana e la sua truppa, e sconfissero gli angeli malvagi. Satana ha tentato di rovesciare Dio in cielo, ma ha perso. L'angelo Michele e i suoi angeli divini combatterono contro Satana e la sua truppa, e sconfissero gli angeli malvagi. Lo cacciarono dal cielo per affrontare la condanna eterna. Nel frattempo, Michele e i suoi angeli compagni non sarebbero stati in grado di sconfiggere Satana se non fosse stato per il potere costituito dal sangue di Gesù Cristo. La scrittura diceva, hanno vinto il sangue dell'agnello. Si dice, e la guerra è scoppiata in cielo, Michele e i suoi angeli combatterono con il drago, e il drago e i suoi angeli combatterono, ma non prevalsero, ne fu più trovato loro un posto in cielo. Così il grande drago fu cacciato, quel serpente del vecchio, chiamato il diavolo e Satana, che inganna il mondo intero, fu gettato sulla terra, e i suoi angeli furono cacciati con lui. Poi udì una voce forte che diceva in cielo, ora sono venuti la salvezza e la forza. Il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte, è stato gettato a terra. E lo hanno sopraffatto con il sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino alla morte, Apocalisse 12, 7 a 11. Lezione, nel sangue di Gesù Cristo c'è il potere di vincere Satana e le sue corti. Satana trema ogni volta che viene menzionato il nome di Gesù Cristo. Trema allo stesso modo anche lui ogni volta che viene menzionato il sangue di Gesù Cristo. L'angelo Michele ha sconfitto l'angelo malvagio del cielo con l'autorità contenuta nel sangue di Gesù Cristo. Apocalisse 12, 7-11 I cristiani devono usare lo stesso mezzo per sconfiggere anche il nemico. Sia Satana che i suoi demoni tremeranno davanti al nome e al sangue di Gesù come hanno fatto in cielo. Non possono resistere all'autorità di Gesù Cristo. Pertanto, nessun cristiano deve esitare a usare strumenti appropriati contro i suoi nemici, il nome e il sangue di Gesù. I credenti dovrebbero ordinare a Satana di perdersi dalla loro vita per vivere la vita dei sopravvissuti. Coloro che lo faranno non si pentiranno della loro azione, ma vivranno vittoriosamente sulla terra. Che qualcuno gridi d'alleluia! Preghiera, nel nome di Gesù Cristo rimprovero Satana. Ordino al nemico di perdersi dalla mia vita. Infrango il suo potere con l'autorità nel nome di Gesù Cristo. Uso anche l'autorità del sangue di Gesù Cristo per distruggere tutte le influenze del nemico nella mia vita. Io trionfo su Satana e sulle sue forze del male da oggi e per sempre. La salvezza di Gesù Cristo è mia, e la sua vittoria è anche mia. Perché io sono più che conquistatori di Cristo che mi ama. Romani 8 e 37 Infatti, nel nome di Gesù Cristo io esercito la mia autorità. Amen